buongiorno a tutti allora filpettina sempre da brr che freddo che fa perché proseguiamo con le gare di sci anzi oggi sarà la giornata in cui le recupererò tutte devo fare le due gare di domenica perché adesso ho fatto le due gare di sabato una l'ho caricata un attimo fa e adesso andiamo a parlare della discesa libera femminile da zoo che si sa che si che avvicina ad alte mark quindi sono libidi e vediamo com'è andata discesa libera femminile p di attenzione alla nostra donna razzo la prima scendere ramona si benofero vediamo quale sarà il suo tempo che come sempre sa che quello da battere il suo tempo finale 1 46 e 22 vedremo che gara fatto solo vedendo scendere le altre sembrerebbe da buona gara e sembrerebbe ma finché non vedi scendere le altre non lo puoi sapere tocca la widdle una discreta gara in luce verde sempre anche se un po ballerina perché era più 22 più poi più 7 più 8 più 10 e poi però alla fine quando conta quando passi davanti alla fotocellula del traguardo è prima con ben 34 centesimi di vantaggio quindi vuol dire che nell'ultimissimo tratto è andata giù a cannone tocca appunto come dicevamo alla ragazza jet missile razzo dello sci italiano sofia goggia vediamo cosa combina la nostra numero uno della specialità porca di quella miseria stava andando giù bene bella tranquilla bella spianata bella allegra bella felice con un bel più 42 al secondo intermedio di vantaggio in luce verde ha spigolato gli si è allargato lo sci ed è finita nelle reti malamente con vari dolori fortunatamente non si è rotta niente però la botta l'ha sentita è come se l'ha sentita quindi non si sa o meglio si sa perché adesso siamo già a lunedì quindi si sa se ha gareggiato o meno ma io non lo posso sapere faccio finta di non saperlo perché lo vedremo nel video del super gigante che si è disputato il 16 gennaio sempre a alte manzauken si purtroppo la nostra sofia è caduta tocca la nostra piccola di col del lago pettorale 8 vediamo se questa volta fa una bella gara che ne ha tanto tanto bisogno obiettivo stare nelle 15 il top starebbe il top sarebbe stare nelle 5 per ora è quarta con un secondo e venti dalla sciatrice tedesca diciamo che mentre stava migliorando migliorando ha fatto un altro errorino di troppo e ha preso un secondo e venti senza quell'errore forse forse poteva stare sotto il secondo e voleva dire prime dieci posizioni tranquillamente con uno e venti bisogna vedere quante saranno davanti alla widel e poi quante staranno dietro alla widel ma sotto l'uno e venti speriamo riesca a stare delle 15 tocca alla gallara gut berami una buona prova ma alla fine davanti per soli dieci centesimi quindi casi sono due perché i commentatori tra cui la daniela berighetti che è un'esciatrice alla fine ha smesso di gareggiare mi sembra alle ultime olimpiadi quindi tre o quattro anni fa dopo le ultime olimpiade quindi lei ha detto ha fatto una gran gara è stata bravissima però è davanti solo di dieci centesimi alla widel quindi i casi sono due o la merighetti gli ha dato un voto troppo alto o se no la widel ha fatto una gara da libidine perché la berami facendo una gran gara precisa perfetta e tutto quello che voleva gli ha davanti per soli dieci centesimi vedremo col proseguio della gara suddetta tocca alla nostra elena curtoni pettorale 13 anche per lei vale lo stesso di con un discorso fatto per nicole quindi libidine stare nelle cinque obiettivo stare delle 15 purtroppo per il momento ottava 1 e 35 dietro a nicole lago che è settima settima e ottava e le nostre atlete ne sono scese solo 13 speremi bene è la volta di federica birbignone pettorale 16 è inutile che vi ripeto obiettivo prime 5 quello libidine proprio e se no ci sia contenta di stare nelle 15 vediamo quale sarà il suo tempo e vediamo cosa succede una buona gara un errore all'inizio che la porta ad avere più di un secondo di ritardo ma poi negli ultimi due intermedi va giù come un missile riesce a recuperare qualcosina ed è quinta a 87 centesimi diciamo che la seconda parte di gara è stata forse una delle migliori per il momento però devi farla tutta figliola mia perché se fai mezza gara da campionessa e mezza gara da pinocchietta vincere non vinci devi farla da campionessa tocca alla nostra piccolina perché la nicola è la piccola la nadia che è sua sorella è la piccolina ma ci hanno un anno di differenza se non erro sono classe una 2007 l'altra 2008 no non è possibile classe 97-98 sì più probabile 97-98 2007-2008 avrebbero 14 anni no però sono tutte e due lì vicine vicine giovanissime ma non troppo perché se sono 97-98 dopo ve lo metto giù nella descrizione perché so che ci hanno un annetto di differenza una con l'altra e Nadia è la più piccola però vediamo come si conclude la sfida tra sorelle per ora la Nicole è decima a 1,30 eh ma la Nadia Nadia è tanta roba Nadia è tanta roba signori tra un po' Nadia va a rompere le scatole anche alla donna Jet perché se va avanti così ci sarà combattimento in casa Italia per vincere la Coppa di Specialità delle discipline veloci perché signori miei la Nadia del lago è quarta a soli 52 centesimi dalla prima e a soli 8 centesimi dal podio bravissimissimissimissimissima perché ci vuole quando ci vuole ci vuole tocca alla Maier pettorale 22 purtroppo proprio dopo il terzo intermedio si fa portare troppo larga e quindi allarga 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 e qua c'è la porta e la porta gli ha detto ciao perché lei gli è andata dietro e quindi ha saltato la porta e quindi deve salutare la gara tocca alla nostra Francesca Marsaglia pettorale 27 e sfida in famiglia quindi non diciamo nulla e vediamo cosa combina eh purtroppo la nostra Franceschina Marsaglia perde la sfida con tutte le sue colleghe e compagnie di squadra è diciassettesima 1,90 speriamo che riesca a stare almeno nelle 20 ne mancano ancora un po' perché se erano se non erano 44 che gareggiavano comunque classifica dopo la discesa delle prime 30 atlete sempre Gutberami al primo posto la Guido la seconda a 10 centesimi la Sibenhofer e terza a 44 poi Nadia Delago quarta la Gagnon si rivede Maria Michelle Gagnon sarà felice la Brignon che fa anche rima perché sono molto amiche e la Gagnon ha proprio battuto la Federica perché Gagnon quinta Federica Brignone sesta Corinne Sutter settima poi ci sono anche Giasmine come si chiama l'altra e l'altra non mi ricordo ci sono due sorelle una è Jasmine Sutter e l'altra l'hanno detta oggi che però è infortunata e quelle sono sorelle Corinne è un'altra Sutter ci sono tre Sutter svizzere ma due sono sorelle poi la Corinne che è quella teoricamente più performante che infatti è settima e che gli anni passati era un missile in gigante in discesa libera ultimamente diciamo che è un po' meno missile comunque si deve accontentare del settimo posto la Ledeca quella che fa anche Snowboard è ottava la Florie è nove e la Cher è decima per quanto riguarda le italiane per ora dopo 30 atlete scese abbiamo la Nicole De Lago dodicesima la Elena Curtoni tredicesima la Franceschina Marsaglia diciottesima e ahimè la nostra numero uno è caduta e speriamo che riesca a essere in pista per il super gigante del giorno dopo del 16 comunque resta tranquillamente in testa la classifica di specialità perché ha solo vittorie è una caduta ma vabbè quella la metti sempre in preventivo il problema è che oggi giustamente durante la gara c'erano i commentatori dicevano ci mancano ancora 6 11 gare veloci tra discesa e Super G quindi la nostra Sofia Goggia potrebbe anche puntare alla Coppa Generale non solo alla Coppa di specialità di discesa libera oltre al Super G in cui le nostre italiane stanno facendo incetta di podi e prime posizioni comunque classifica confermata per le prime 10 alla fine della discesa di tutte le atlete e quindi non vi sto a ripetere perché ve l'ho appena detta per quanto riguarda le italiane confermata Nicole Delago dodicesima confermata Elena Cortoni tredicesima alla fine della fiera la nostra Franceschina Marsaglia perde solo una posizione ed è diciannovesima e purtroppo la Roberta Melese che scendeva con un pettorale alto eccetera è solo quarantaduesima fuori dalle prime 10 caduta ahimè come dicevo prima la nostra Sofia Goggia detto questo ragazzoni io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo ai prossimi video ciao ciao